Marco tu sei uno dei tanti residenti della zona, sei il primo che vediamo arrivare con dei guanti in tasca. Sì, perché ho visto oggi a posa prezzo, stavo tornando a lavoro in motorino e ho visto questi ragazzi e ho trovato un'iniziativa veramente bellissima, qualcuno che non abbandona i cittadini a loro stessi e finito di lavorare, ho preso dei guanti da lavoro e sono venuto qui anche io per dare una mano. Qual è la situazione che si vive qui nel quartiere con questo edificio così abbandonato? Penso che qualsiasi cittadino possa rispondere perché avere un edificio così abbandonato di fianco alla propria casa o nella propria zona, colmo di schifezza di ogni tipo per terra e di gente non proprio affidabile, con un passaggio di bambini che c'è qua vicino, non penso sia la migliore delle cose. Pensi che altri residenti come te saranno così volenterosi, scenderanno anche loro a dare una mano? Io lo spero perché è la nostra zona, me lo auguro, io sono qui per quello.